un espediente degno di Arsenio Lupen. Quello con cui il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha seminato il candidato di Casa Pondoluca Marsella, sottraendosi ad un confronto estemporaneo che, a poche settimane dal voto ad Ostia, avrebbe rischiato di trasformarsi in un pericoloso boomerang politico. Un inciampo nella corsa al municipio della grillina Giuliana di Pillo. Virginia Raggi giunta ad Ostia Nuova per inaugurare la prima domus ecologica. La Raggi è stata intercettata. In via Domenico Baffigo, dall'esponente di Casa Pound, venga a vedere lo skate park. LH ha incalzata Marsella, chiedendole il conto delle promesse fatte in campagna elettorale. Pivolte riqualificata dai volontari di via Napoleone III. La Re ha diventato un ricovero per senza tetto. Una discarica a cielo aperto. O un luogo dimenticato. Tutto questo, poi, in un quartiere difficile come quello di Nuova Ostia. G di fortemente degradato. La Raggi in corsa per il Campidoglio aveva assicurato che lo skate park si rifar. Ma a api di un anno da quell'affermazione le operazioni di bonifica vanno a rilento. Come lei ben sa ha replicato il sindaco preso alla sprovvista lo skate park lo stanno. Riqualificando le scuole. Il progetto, infatti, stato affidato ad una progettazione partecipata dagli studenti delle scuole. Ma non ancora decollato. E poi, per togliersi dall'impaccio, ha aggiunto, andiamo a vederlo insieme, suggerendo l'intenzione di recarsi l. assieme a Marcella, al termine dell'inaugurazione della casa del riciclo. Il sopralluogo promesso, per, non si mai verificato. La Raggi, infatti, ha preferito sottrarsi al confronto e dileguarsi. Come una ladra, dalla porta sul retro, ci aveva risposto che sarebbe venuta con noi ma tuona Carlotta chi era luce. Capolista di C.P.A. alle prossime elezioni uscita della porta secondaria. A.V.R. qualcosa da nascondere. Altro su MSN. Rosatellum. Raggi in piazza. Vergogna. Non si cambiano regole cos. E indossa casco dei pompieri. RepTV.